Ed oggi iniziamo questo video con il grafico di Solana in primo piano, dove in pratica vediamo chiarissimo che questa è la prima fase ribassista più prolungata dalla fase iniziale dal settembre del 2023, in cui Solana ha iniziato una trend rialzista imponente, oserei dire, e solo, solo, solamente dal mese di marzo 2024 sta iniziando una fase di respiro un po' più pronunciata, che però non è una fase di respiro al momento che è andata ad intaccare il trend rialzista dei mesi scorsi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un briefing su quelle che sono le top crypto e le crypto che stiamo seguendo, che sto seguendo anche io per una serie di motivi, ne ho scelte quattro per voi, quindi andiamo a fare come sempre un video analisi sulle crypto in questione e poi vi mostro, come promesso nel video di ieri, questo grafico, il grafico di Bitcoin su base settimanale, perché c'è una particolarità di analisi tecnica che voglio farvi vedere, una particolarità che abbiamo, che si ripete da novembre del 2022, quindi molto interessante perché si sta verificando proprio esattamente in questa settimana e volevo farvela vedere. Prima di andare avanti anche una serie poi di news, una particolare che aveva attratto la mia attenzione e non so se ho già detto bene ciao a tutti, bentornati, ma penso di sì ragazzi, oggi video sulle crypto, poi volevo chiedervi anche di lasciarmi mi piace su questo video e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, stiamo raggiungendo i 100.000 iscritti, uno dei più grandi traguardi che ho raggiunto diciamo su YouTube, sono molto contento di arrivarci, vediamo se ci vorrà un paio di mesi insomma circa, sono molto contento di questa cosa e soprattutto di condividerlo con voi e poi tra le altre cose volevo dirvi anche di scrivere nei commenti di questo video una serie di crypto che possono interessarvi, ovviamente che siano di alta capitalizzazione, medio alta perché non analizzo crypto troppo piccole e le scrivete nei commenti ragazzi così poi nel prossimo video recap le andiamo ad inserire. Bene, prima analisi diciamo su Solana, scusate ragazzi se è andato via l'audio, anzi facciamo una cosa, vi faccio vedere prima le news, la news importante che vi avevo accennato. Eccola qui ragazzi, la trovate sul blog di tradingon.it per seguire tutte le news ovviamente sul blog di Tradingon, iscrivetevi al nostro canale Telegram dove vengono pubblicate costantemente tutte le news che andiamo a pubblicare e anche tra le altre cose alcune analisi e altre notizie molto importanti che magari estemporanee e insomma time sensitive avvengono nel settore delle criptovalute. Quindi pubblico tutto lì ragazzi, il canale è gratuito, lo trovate in descrizione di questo video. Allora, Grayscale cambia strategia rispetto agli ETF di Ethereum e ritira la sua richiesta presso la SEC per il lancio degli ETF sui futures di ETH. Allora, questa è una notizia che non è sconvolgente, però è anche una notizia significativa che spiega sempre un po' perché in questa fase la regina delle cripto è un po' messa da parte tanto e volte rispetto ad altre criptovalute e ovviamente anche rispetto a Bitcoin. è messa da parte, non sappiamo per quanto tempo lo sarà, secondo me fra qualche mese cambierà il mood e il momentum per ETH però in questo caso ragazzi, notizie di questo tipo insomma la dicono già lunga. Poi c'è la questione ovviamente della SEC che continua a fare ritardi nella revisione delle proposte degli ETF su ETH di nuovo Gary Gessler oggi ha parlato contro le criptovalute insomma eccetera ovviamente un po' secondo me la questione dell'ETF di ETH sarà la narrativa principale dei prossimi mesi però dopo l'estate secondo me o a cavallo insomma dell'estate al centro quindi nei prossimi mesi perché potrebbe essere in effetto una narrativa che spingerà nel 2025 fatto sta che questo inizio di tiro alla corda, tiro alla fune secondo me può essere interpretato da un certo punto di vista come un'attesa quindi rimettere tutte le strategie in attesa su ETH ma anche da un altro punto di vista come un inizio in pratica di questo tiro alla fune che sappiamo bene quello che è successo su Bitcoin poi ha portato all'approvazione del ETF quindi volevo farvi comunque vedere anche questa notizia che secondo me è interessante passiamo alla questione dell'analisi ciclica, analisi tecnica di Solana allora Solana ragazzi sta sviluppando un ciclo biannuale dai minimi del dicembre 2022 di matrice ternaria così strutturato io vi ho messo un po' una forma tipica dei cicli ternari non sappiamo se effettivamente sarà così però al momento per esempio questa fase ribattista corrisponde alla chiusura del secondo annuale corto di Solana che era in attesa e finalmente devo essere sincero l'ha fatta perché io non sono riuscito mai a cavalcare questo trend in quanto Solana non mi ha mai dato un punto di ingresso adeguato quindi ho preferito utilizzare AlterCredit per cavalcare il trend insomma rialzista del 2023 e inizio 2024 c'è da dire che Solana è stata un po' imponente però con questo trend veramente diciamo gigante io però preferisco giocare sempre in difesa sulle criptovalute per anni e anni di esperienze quindi mi importa tanto e non quanto avendo diciamo fatto su AlterCredit però l'attendo ragazzi l'attendevo già un po' al varco da una serie di mesi questa fase ribattista potrebbe in effetti coincidere con dei miei scenari e quindi darmi il là per il rientro su Solana come cripto all'interno del portafoglio ci tengo anche su questa criptovaluta perché penso che se dovesse iniziare una fase di alt season rilevante Solana ha tutte le carte in regola per rompere i massimi storici e rompendo i massimi storici intanto potrebbe essere una delle poche cripto nelle top 20 che va a rompere i massimi storici in questa fase ma soprattutto mi va in price discovery e una volta che una cripto arriva in price discovery si genera un hype spropositato ovviamente iper speculativo che potrebbe essere interessante da un punto di vista di gain e che chiaramente a me non importa nulla di tenerla poi in holding a vita ma io la userò per speculare quindi più saliamo meglio è perché la speculazione è importantissima anche per i trader io sul cripto faccio più o meno solo trading anche se magari alcune le tengo per tanti mesi però è sempre trading se inverte il trend esco immediatamente mentre è diverso il mio atteggiamento su Bitcoin allora questa fase qui di Solana quindi potrebbe in effetti darci proprio quella spinta finale cioè la chiusura di questa fase ribassista potrebbe poi dare il là all'inizio di questa nuova zona di questo nuovo periodo che è questo qui che ha tutte le carte per superare i nuovi massimi a meno che non succede un disastro qui cioè a meno che questa zona non va a perdere aderenza e Solana crolla in maniera impressionante intorno ai 40 dollari, 50 dollari allora solo in quel caso verrebbe compromesso la possibilità di andare a fare nuovi massimi ma una chiusura che sia anche blanda intorno a queste zone più o meno già raggiunte nella fase precedente ma che insomma adesso sono intorno ai 100 dollari, 110 dollari ci può andare tranquillamente in chiusura di questo movimento se ripeto non l'ha già chiuso perché comunque è riuscita a fare dei livelli di minimo interessanti in questa fase qui 118 dollari quindi anche diciamo un ritaccio di questo minimo ma insomma ripeto intorno ai 100 dollari come aria potrebbe essere sufficiente la chiusura di questo movimento da lì in poi dovremmo avere l'ultimo ciclo che potrebbe spingere appunto nel fare nuovi massimi e poi chiudere il B annuale quindi potrebbe essere forte nella prima parte nella prima parte quindi fino alla fine dell'anno diciamo questa zona qui è settembre-ottobre del 2024 verso la fine dell'anno molto interessante quindi Solana tenetela sotto stretta osservazione questo è un grafico settimanale vi faccio vedere anche l'appoggio alle due medie mobili che fungono in questo caso proprio da supporto al trend di Solana e indicano anche perché sono le medie mobili che sono disegnate in questo caso 11 e 21 quindi molto corte indicano il primo spiraglio insomma di supporto poi ce ne sono altre che sono queste due che sono quelle più importanti che sorreggono l'intero ciclo di Solana quello iniziato praticamente nel 2022 e sono molto più distanti questa volta potrebbe anche accadere che ci posizioniamo al centro di queste due medie anche in questo caso un ulteriore conferma della chiusura di questo movimento bene passiamo invece alla seconda cripto molto forte secondo me che è Binance Coin Binance Coin insieme a Solana diciamo ha avuto anche una fase di alzista non pronunciata come quella di Solana ma in questo momento secondo me è una delle cripto più forti perché non sta facendo la fase di bassista quindi è una fase importante soprattutto è ancora lontana dalla chiusura del ciclo annuale che dovrebbe arrivare nel 2025 e quindi questa parte è la chiusura del semestrale di Binance Coin Binance Coin che è palesemente ha le soglie del breakout dei massimi storici anche in questo caso valgono tutte le considerazioni che ho appena fatto su Solana cioè il reingresso di BNB sopra i massimi storici la porta in Price Discovery e anche in questo caso nulla vieta in una spirale rialzista magari di anche 100 punti percentuali che possa essere insomma interessante da un punto di vista di trading quindi BNB interessante da questo punto di vista che sta in fase di chiusura del semestrale di questo ciclo annuale che è atteso poi a chiudere a gennaio del 2025 due cripto nuove invece di cui non abbiamo praticamente mai parlato ma che mi avete richiesto appunto nei precedenti video e quindi ragazzi vi ribadisco nei commenti scrivetemi le cripto che volete analizzare che volete insomma sulle quali volete un'analisi le inseriamo nel prossimo video recap sulle criptovalute allora in questo caso FET è una cripto che ovviamente ha beneficiato della questione dell'AI e in particolar modo ha sfruttato alla grande sostanzialmente tutto quello che era il marketing dell'AI diciamo così del 18GPT diciamo in come capofronte insomma di questo movimento AI e l'ha sfruttato molto bene tanto è vero che dal minimo del novembre del 2022 ha fatto numeri impressionanti perché qui ad oggi siamo al 3800% ha raggiunto il 6188% ragazzi dal minimo al massimo quindi numeri impressionanti per questa criptovaluta che ovviamente fanno la differenza ragazzi sono cripto le cripto piccole se volete speculare in forma eccessiva e quindi rischiare veramente tantissimo possono dare grandi soddisfazioni come appunto in questo caso allora sembrerebbe che come il ciclo precedente di FET cioè quello del 2020 fino al 2022 un B annale anche in questo caso FET stia realizzando un ciclo di matrice ternaria e quindi un B annuale a forma ternaria come il precedente che dovrebbe durare intorno ai 1000 giorni complessivi e che in pratica avrebbe una struttura con il primo ciclo già chiusosi eccolo qui intorno a questa zona anche se non si vede bene il minimo ma anche in questo caso la spinta realizzista molto forte di queste cripto andare ad applicare una ciclica precisa perfetta con pochi dati statistici come questo grafico non so ragazzi secondo me è un azzardo quindi più o meno bisogna andare in forma qualitativa in questo caso c'è poco da fare qui è stato chiuso un terzo di questo movimento siamo in fase di chiusura probabilmente del secondo movimento che però 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 è atteso per luglio tant'è vero che in questo caso dovremmo starci secondo me attenti perché a differenza di Solana qui c'è troppo spazio a livello temporale per cui una fase di ripresa di difetto sicuramente potrebbe avvenire per la spinta importante realizzista che ha questa criptovaluta però da un certo punto di vista io sono ancora in fase gialla infatti è indicato con il giallo diciamo sul mio sul mio screen perché la sto attendendo però non mi convince molto e ahimè purtroppo quando i dati non mi convincono io non entro sulle cripto e a volte perdo anche questi grandi movimenti però ovviamente non rischio allora qui non so se questa spike realzista ha senso andarla a citare però in realtà il massimo è stato ampiamente superato nei mesi scorsi intorno a febbraio ma questo sancisce anche la possibilità di vedere una specie di pullback in questa zona pericolosetto quindi al momento attesa per quanto riguarda Fett ma la spinta realzista è innegabile se dovesse agire con una fase ribassista intorno alla zona di giugno-luglio diventerebbe da semaforo giallo a semaforo verde perché poi il terzo movimento potrebbe spingere ulteriormente verso nuovi massimi storici ultima criptovaluta di oggi e poi vi faccio vedere questo grafico con la peculiarità su bitcoin sul quale diciamo secondo me bisogna fare molta attenzione e io ho tanti dubbi anche su questa cosa ve ne parlo già ve l'avevo accionato ieri ve ne parlo tra poco allora render che a differenza di Fett ha un semaforo verde perché render anche questa ha sfruttato la questione delle AI un po' meno di Fett però l'ha sfruttata anche con il marketing delle AI eccetera perché perché sembrerebbe proprio che questa criptovaluta stia strutturando dei cicli particolari da circa 250 giorni più o meno e che quindi qui potrebbe essere in una nuova fase ora questo ciclo è appartenente al ciclo precedente quindi è un annuale che ha chiuso in questa zona qui mentre in questa fase stiamo chiudendo il semestrale del nuovo ciclo annuale ma attenzione perché io qui non ho altri dati storici sul render quindi sembrerebbe che con i dati in mio possesso quelli che TradingView ci presenta al momento come massimo storico di dati abbiamo questo tipo di struttura che è anche un'analisi tecnica interessante perché abbiamo fatto il breakout dei precedenti massimi per cui per quanto diciamo questi massimi valgano praticamente pochissimo in quanto era stata emessa e poi ovviamente c'è il crollo dell'emissione non so però perché non ho i dati precedenti se esistono dei dati un po' più precisi anche nei mesi passati in ogni caso questo breakout avvenuto qui e poi il pullback che coincide tra l'altro con la chiusura di un probabile ciclo semestrale questa cosa è importante perché un'eventuale fase di ripresa di tutto il mercato delle cripto e quindi magari da metà maggio o metà giugno in questo mese sappiamo che io mi attendo ragazzi una chiusura importante sul mercato delle cripto compreso bitcoin per poi un'eventuale ripartenza e il lancio della season nella seconda fase dall'estate in poi questa secondo me ha molto spazio di creare nuovi cicli rialzisti così prima di chiudere l'annuale e quindi potrebbe far bene anche per questo io ho inserito un semacro verde su questa criptovaluta l'attesa del ciclo annuale dovrebbe essere intorno a dicembre 2024 quindi se la spinta dovesse avvenire dovrebbe farla proprio nelle prossime settimane o la fa nelle prossime settimane come si dice la spacca perché poi diventa troppo tardi quindi già da per esempio agosto in poi secondo me è troppo tardi quindi a quel punto no per questa criptovaluta ma in caso ci riaggiorneremo allora fatto il briefing sulle 4 cripto di oggi andiamo a vedere il grafico che vi ho promesso su bitcoin un grafico estremamente interessante perché grafico settimanale una conformazione di pattern sulle candele settimanali che è avvenuta tre volte anzi quattro volte su bitcoin e ha lasciato poco spazio perché tutte le quattro volte noi abbiamo assistito ad una ripresa allora prima struttura di una candela settimanale che va a creare ragazzi vi spiego il pattern qual è in maniera molto chiara ve lo faccio vedere più volte allora intanto è una candela settimanale che va a creare in shadow il minimo di periodo in questo caso nel minimo delle ultime tre settimane dopodiché recupera in close della settimana e diventa una candela verde di indecisione con un body molto piccolo questo qui quindi mi interessa che ci sia una shadow che va a fare il minimo delle ultime settimane un minimo relativo e mi interessa che ci sia un recupero che porta quella candela ad essere o una verde o anche una rossa non è importante il colore è importante che il corpo sia piccolo il corpo intendo la distanza tra apertura e chiusura della candela settimanale queste candele sono settimanali quindi hanno estremo valore per cui sono molto rilevanti allora vi faccio vedere l'atteggiamento di quello che avviene dopo avviene una candela di questo tipo che indica la fine di un movimento e avviene anche qui la fine di un movimento e avviene soprattutto anche in altre strutture che sono state concludenti di movimenti al ribasso per esempio avviene in questa zona qui movimento ribassista conclusosi con questa candela movimento ribassista conclusosi con questa candela poi abbiamo guardate insomma il concetto minimo corpo piccolo minimo corpo piccolo stessa identica cosa qui movimento ribassista conclusosi con questa candela minimo e corpo piccolo dopodiché oggi siamo in questa struttura minimo e corpo piccolo allora qui ragazzi c'è una valutazione da fare in tutti gli altri casi dall'inizio di questa fase ciclica e sono uno poi c'è anche questo mi ero dimenticato anche di farvi vedere anche questo guardate è minimo e corpo piccolo vedete di questa candela questa è l'unica rossa tra le altre cose ma è rossa appunto per una coincidenza di chiusura perché praticamente non importa il colore come vi dicevo perché il corpo deve essere piccolo quindi poi lì diciamo che la differenza la fanno pochi dollari quindi non cambia tanto abbiamo in pratica uno due tre questo è sporco però diciamo uno due tre quattro cinque pattern identici più uno sporco perché dico che è sporco perché questo è un ribasso piccolino però c'è anche qui la stessa cosa quindi uno due tre quattro cinque più uno cinque più uno casi in cui tutti questi casi la candela in questione settimanale ha decretato la fine di un movimento ora come facciamo noi ad avere poi una conferma di questa cosa teoricamente dal superamento dei massimi della precedente candela come è stato fatto in questa settimana oggi siamo a mercoledì però in questo contesto vedete sta facendo una candela rossa perché potrebbe anche decidere di recuperare parte di questa shadow nelle prossime settimane anche nella prossima settimana questo però non inficerebbe il concetto che potremmo sempre avere un'eventuale ripartenza perché potremmo assistere cioè il pattern potrebbe identificarsi in questo modo guardate qui come il pattern sporco questa e questa qui e poi la successiva che recupera la precedente quindi anche questa struttura andrebbe valutata ora io sono dell'idea che bitcoin a bitcoin serva un po' di tempo per chiudere questa fase a livello ciclico abbiamo dati in concludenti da questo punto di vista cioè sembrerebbe che bisogna andare verso almeno metà maggio o metà giugno però a livello di analisi tecnica sembra che questa candela della scorsa settimana possa essere un pattern interessante ora è anche vero che un'eccezione potrebbe farla e quindi basta una candela rossa che si va a rimangiare questa shadow anche perché siamo a livello di supporto importante in questa zona qui cioè i 62 sono il vero supporto di quest'area perché il mercato tenta sempre di recuperarli questa zona qui 62,5 quindi un breakout confermato di questa zona a livello anche settimanale potrebbe innescare una ricopertura di questa shadow e rimandare tutto alla settimana successiva però io questo pattern volevo farvelo vedere perché è un pattern realzista e quindi al di là di quello che sono le analisi poi cicliche l'analisi tecnica ricordate sempre che è comanda perché comanda da un punto di vista di prezzo ovviamente l'analisi tecnica è molto più ballerina della ciclica e quindi bisogna usarla e maneggiarla con cura perché vi può dare falsi segnali però in questo caso questo è un pattern settimanale è molto importante non è un pattern rumoroso perché qui c'è poco rumore di fondo siamo su un grafico settimanale il grafico settimanale ragazzi è il grafico migliore di tutti sul quale fare analisi perché è quel compromesso corretto tra velocità e lentezza per le operazioni di lungo periodo quindi è anche un grafico molto molto rilevante ecco questa pattern tenetelo in considerazione fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate giorni contati per questa fase ribassista che dovrebbe chiudersi a momenti secondo questo pattern voi cosa ne pensate intanto noi ci rivediamo nel prossimo video e vediamo un po' cosa succederà proprio questa settimana ciao a tutti ciao a tutti